Il tema della riapertura del Tribunale di Sala Consilina rappresenta una lotta che non può esaurirsi e non può vedere un territorio arrendersi al provvedimento. Ne è convinta l'Avvocato Elisabetta Giordano, membro del Comitato di Coordinamento Nazionale per la Giustizia di Prossimità, presieduta dall'Avvocato Giuseppe Agnus Dei, che sin dall'entrata in vigore della legge Severino, che ridisegnò la geografia giudiziaria andando a sopprimere procure e tribunali ritenuti minori, prosegue la battaglia per veder corrette alcune storture della legge di riforma giudiziaria che ha lasciato interi territori privi della tutela della giustizia. Con un videomessaggio rivolto al Presidente del Consiglio Conte, il Presidente del Comitato Agnus Dei ha richiamato l'attenzione del Premier sulla problematica, riferendosi in particolare alle difficoltà che si stanno riscontrando nel Foggiano, appellandosi anche all'origine del Presidente del Consiglio e chiedendo di avviare un iter legislativo che porti alla riapertura dei tribunali soppressi. Dagli incontri che abbiamo tenuto con il Ministro della Giustizia e con il gruppo interparlamentare presso la Camera dei Deputati, abbiamo ricavato la possibilità che vi è quella di ottenere un iter legislativo che porti alla riapertura dei tribunali. La sua persona e il Governo da lei presieduto hanno ottenuto dall'Europa dei cospicui finanziamenti, una parte dei quali potranno essere utilizzati per il settore giustizia e attualmente, oltre ad un iter legislativo che richiediamo possa essere il più agile possibile, vi è la possibilità anche di ottenere un provvedimento amministrativo che permetta, attraverso delle convenzioni tra elementi locali, regioni e Ministero della Giustizia, di portare nuovamente ad utilizzo i palazzi di giustizia che sono stati non più destinati all'attività giudiziaria. A tal proposito interviene anche l'Avvocato Elisabetta Giordano che invita a non abbassare la guardia, a non fermare la lotta, ma piuttosto ad intensificarla, al fine anche di riuscire ad intraprendere ogni opportunazione che possa portare al risultato. La lotta per il ripristino dei tribunali continua, sottolinea l'Avvocato Giordano, il Comitato di Coordinamento Nazionale non si ferma. Anche per il Tribunale di Sala Consilina il mio impegno va avanti senza sosta, unitamente alle azioni del Comitato Nazionale. Sala Consilina, continua, ha il diritto di riavere il suo tribunale insieme al carcere. Nessuno abbassi la guardia, gli amministratori sostengano questa lotta perché riavere il tribunale significa ridare dignità al territorio e all'economia locale, ma soprattutto ottenere giustizia. I cittadini, dichiara in conclusione, sostengano con la loro partecipazione attiva la lotta per riportare il Tribunale a Sala Consilina.